Allora, intanzi tutto presentiamoci, noi non siamo conosciutissimi, Open Fiber è una società nata a fine 2016, inizio 2017, ha come azionisti Enere della Cassa Depositi e Prestiti e ha una missione aziendale molto particolare, ha la missione aziendale di coprire il paese con una rete in fibra, quindi di portare una rete a prova di futuro, una rete ad altissima capacità in tutto il paese. Abbiamo cominciato a soddisfare questa mission con un piano di copertura di 271 città, che sono oltre 9 milioni di unità immobiliari, nelle aree cosiddette a concorrenza, quindi nelle città grandi, a partire da Milano, Roma, Bologna e Torino e a calare sui principali capologhi di provincia e le principali città del paese e una seconda parte delle cosiddette aree bianche, perché a fallimento di mercato, le aree nelle quali nessuno aveva intenzione di investire in servizi ad altissima capacità, dove ci sono stati assegnati fondi pubblici per la copertura di queste aree attraverso due gare pubbliche e abbiamo avviato la nostra attività, anche in questi ambiti la copertura prevista supera i 9 milioni di unità immobiliari, quindi stiamo parlando di un operatore che intende coprire 19 milioni di unità immobiliari. Questi 19 milioni di unità immobiliari coperte non vanno a fornire servizio diretto ai clienti finali, ma agli operatori che poi servono i clienti finali, quindi l'altra novità che è rappresentata da OpenFiber è il fatto che non è un operatore che troverete nelle vostre case per fornirvi il servizio, ma è un operatore che fornirà ad altri operatori quanto serve per fornire un servizio ad altissima velocità. I nostri operatori clienti saranno quindi i soggetti che poi arriveranno a vendere il servizio nelle case. Per quanto riguarda la domanda, la crescita della domanda noi sperimentiamo che già esiste, è uno sviluppo naturale dovuto alla crescita dei servizi digitali e in questo senso non appena si attiva un servizio ad altissima capacità, si osserva una grandissima crescita degli utilizzi da parte dei clienti. Quindi oggi il tema della domanda è un tema che si supera da solo, evolve da solo, quello che è necessario è soprattutto portare la fibra dove serve. e in quel dove serve aggiungerei anche tutta la parte dei servizi mobili e dei servizi cosiddetti fixed wireless, cioè quei servizi che irrogano il territorio con segnali di tipo mobile e che hanno bisogno però alle spalle di un'infrastruttura in fibra per riuscire a fornire servizi di qualità elevata.